Il protagonista sono sempre i ragazzi, anzi sono i tifosi, che se ne parla poco, e questo mi dispiace perché sono sempre spettacolari, e i calciatori, tutto il resto è l'equip invisibile, che così vi ho detto, sono protagonisti. Però io sono molto contento della prestazione di oggi, perché conferma che questa squadra sta crescendo da un punto di vista di autostima, probabilmente due mesi fa una partita del genere potevamo avere qualche problema in più nel capovolgerla nel risultato, quindi questo mi fa piacere, sono contento perché questa squadra costantemente sta crescendo, ed era anche un problema che io sapevo che questo periodo fisiologico ci voleva, perché poi parti con 20 calciatori nuovi, di cui nessuno ha giocato insieme, ci voleva un po' più di tempo rispetto a altre squadre che avevano un organico più consolidato negli anni. Sarà più difficile migliorare questa rosa o trattenere anche tanti giocatori che hanno un mercato? Io sono voluto parlare proprio per questo, perché voglio tranquillizzare un po' tutto l'ambiente e voglio dire la mia idea principale, io ho sempre detto che ho un tarlo in testa, la proprietà ha un tarlo in testa, che l'Arezzo costantemente bisogna migliorarlo, quindi noi stiamo cercando sempre di migliorarlo, quindi da questo aspetto fortunatamente abbiamo una richiesta di più di un calciatore, 6, però è il mio obiettivo, l'obiettivo della proprietà principale è quello di tenere tutti i calciatori, tutte le richieste che si sono fatte, poi a una richiesta irrinunciabile come quella di Vincenzo Bevo ci sederemo e penseremo, però il mio obiettivo, il lavoro più importante di questo mercato è proprio quello di tenere tutti i calciatori che ci hanno richiesto e quello di continuare a questo periodo di crescita.